Però c'è un'altra cosa che voglio dirti, che credo che sia il vero grande merito di questa fiction è che non ci sono i toscani, capisci? Cioè nessuno che dice la mia mamma e il mio babbo, passami la carne, la carta perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi i toscani hanno devastato questo paese e questo lo devi scrivere per favore, scrivilo